Non ci hanno messo molto gli uomini del commissariato di Fano ad individuare e denunciare colui che l'altra notte, senza la minima remor, si introdotto nell'alloggio equipaggi del 118 e ha reazziato quel che poteva, un telefono cellulare di marca, occhiali e qualche indumento, tutte cose e oggetti che gli operatori lasciano lì durante il loro turno di lavoro. È un trentenne di origini tunisine, già ben noto alle forze dell'ordine e con precedenti, un balordo che è stato subito individuato grazie alla professionalità degli agenti delle volanti che hanno anche eseguito una perquisizione nel suo alloggio e hanno trovato immediatamente lo smartphone derubato agli infermieri, gli eroi dei nostri giorni, mentre il resto del bottino è stato trovato dai poliziotti sparso nei pressi della palazzina della psichiatria del Santa Croce. Amaro e tagliente, lo sfogo della dottoressa, via social Monica Amadori. Spero che un giorno, quando avrai bisogno di noi e saremo lì a soccorrerti, perché lo facciamo con tutti, anche con i delinquenti, ti sentirai una M e la vergogna ti faccia venire le lacrime agli occhi. Ora il tunisino è stato denunciato a piede libero dal commissariato di Fano per ricettazione. Ma gli agenti delle volanti ieri verso le 18, nel contesto dei controlli per il rispetto dell'ordinanza Conte, hanno anche fermato e chiesto motivazioni della loro presenza a due uomini fanesi, entrambi nel distributore di via Pertini, nel quartiere Sant'Orso. Uno aveva un giustificato motivo, mentre l'altro nessuno. E oltre a questo era anche in evidente stato di ebrezza dovuta probabilmente all'assunzione di alcolici. Gli agenti così lo hanno denunciato a piede libero in base all'articolo 650 del codice penale come da decreto e resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza molesta.